Ben tornati ragazzi, modulo 19, scala misolidia, modo misolidio, il modulo che definisco il modulo funk, il modulo blues, l'accordo di riferimento come abbiamo visto appunto nelle lezioni precedenti è l'accordo di settima. Oggi facciamo gli esempi in una suonata un po' più difficile, mettiamo un po' difficile tra virgolette, il livello, andiamo al re bemolle. La particolarità dell'accordo, diciamo, costruito sul modo misolidio, quindi l'accordo di settima, è l'intervallo di quarta diesis, quindi tritono, che c'è tra la settima minore e la decima maggiore, sarebbe la terza maggiore, l'ottava superiore. Nel nostro caso fa do bemolle, sarebbe, sì, in natura, do bemolle. E questo fa sì che questo accordo appunto sia molto molto, diciamo, propezzo a essere alterato, proprio per questo tritono, questa sonorità molto particolare. E infatti, come vi dicevo, ci si può usare una miriade di scale sopra. Ovviamente, quella di riferimento, diciamo, la base, che vedremo oggi, è la misolidia. Quindi, re bemolle, abbiamo tonica, seconda maggiore, terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore e la settima minore. E quindi si crea appunto questo tritono tra la terza e la settima minore. Le tre posizioni che utilizzo per questa scala, col minolo, parto, sono re bemolle, quindi, minolo, indice, anulare, minolo, minolo, indice, indice, anulare, minolo, con l'indice all'ottava. Quindi è il dito medio, quindi il secondo dito. Ovviamente identica alla scala maggiore, con unica nota che cambia, che è appunto la settima. Se ci fate caso, è anche identica alla scala dorica, con l'unica eccezione della terza, maggiore e minore. Ora vedremo questa cosa nel dettaglio. L'ultima posizione è quella del primo dito. Quindi indice, io uso il medio, minore, indice, minore, minore, indice, minore. Mi dicevo, questo è il modo del blues, proprio perché infinità di brani, giri blues, sono costruiti interamente con accordi di settima. Nel funk, ad esempio, molto spesso ci sono brani proprio costruiti con un accordo solo, di settima, per l'appunto. Però possiamo trovare anche dei brani in altri generi musicali, come sempre, che vi scriverò per ascoltarli. Però oggi vorrei rimanere un attimo in tema più fancheggiante e vorrei andare a sentire con una base molto semplice di reb bemolle settima, che ora parte. Andiamo a vedere intanto il suonario di questa scala su tutta la tastiera. Il solito consiglio è attennare la scala con l'arpeggio di settima. E' un'altra cosa. Beggio Scala Scala Come vi dicevo prima, l'unica nota che si riferisce dalla scala dorica è la terza. Andiamo a combinare queste due scale, quindi ad utilizzare sia la terza maggiore che la terza minore. Sentite, sono su un accordo maggiore e non sto usando la terza minore. Grazie per la visione! Qui posso usare anche la peggio di rap bemolle minore set. Grazie per la visione! Consiglio su una base così di creare un vostro groove nel quale potete inserire mano a mano che lo create tutti gli elementi che abbiamo visto. a terza minore, se vi piace. Scala dorica e più avanzi vedremo le pentatoni che stanno bene sia maggiore che una. più avanzata. Vediamo. una volta che avete creato appunto questa base del groove, dopo potete aggiungere man mano più avanzata. Ci sono elementi di appartamento. Grazie per la visione! Chiacióёл Allora ragazzi, anche per questo capitolo misolidio mi fermerei qui e studiate come sempre con tutti gli esercizi che abbiamo visto trasportate quello stato e sentite in modo misolidio. partite da reb e molle come ho fatto io per poi passare ad altre tonalità vi lascio nel pdf appunto dei brand da ascoltare costruiti con questo modo o che hanno una melodia costruita con questa scala e poi passeremo alla scala minore naturale in modo eolio mi raccomando per qualsiasi dubbio, perplessità, quant'altro scrivetemi anche per darmi magari consigli o per farmi le critiche e poi ci vediamo al prossimo video